Ciao ragazzi e ben ritornati su Eldiverse 2 Se vi ricordate nello scorso video siamo andati a combattere gli insetti mutanti sui pnch alieni Mentre in quello di oggi il nostro obiettivo sarà quello di andare a combattere gli androidi A quello che so le missioni degli androidi sono molto ma molto più impegnative rispetto a quelle dei Terminide come vanno detto Ma prima voglio spostarmi, sono dei pianeti dell'automaton Che il più difficile dicono che sia questo pianeta qua Che si chiama, ah ma torrente Mavellon Oh sai anche c'è un SOS Ecco siamo pronti ora Avevo quinta la discesa Cavolo quanto vi piace a me Mi raccara che ha un sacco l'intro del gioco L'intro della missione stadio Ecco siamo per arrivare Oddio Stiamo già nel pieno della missione No Dove mi è arrivata quella cannonata No qui c'è una van posto di bot Ah c'è sempre la torretta c'è Bene devo la ricoprire Ricarica Te muori Muori anche tu Dai dov'è Dove è la torretta Cavolo vabbè Bisogna il sacrificato almeno Dai però prima Ero morto più o meno qua se non sbaglio No poi c'è la torretta Dai voglio Perché voglio recuperare le armi Ancora Ma basta ma cosa è successo Ve l'avevo detto che qua le missioni Sono le più difficili del gioco No raga abbiamo anche tutti i rinforzi Non è che lasciamo più mezzo di rinforzi ora Ma che cavolo facciamo No Dovete fermi lì Cavolo sono anche quelli cattivi No dove No raga Quanti cavolo sono Ripeto I rinforzi sono disponibili No rinforzi infatti Lo richiamo subito No Sto rimasto solo io No No Sono morto Ma ragazzi è finita La missione è fallita Non ce l'abbiamo fatta purtroppo Non ce l'abbiamo fatta per combattere Non ce l'abbiamo fatta per combattere Non ce l'abbiamo fatta per combattere Oh bene, iniziamo ora Ecco, la missione saldrà ancora all'inizio Oh cavolo Ho appena salvato anche il mio collega Aspetta, si manca avvicinare a un obiettivo Oddio, dai dove si buca fuori? Aspetta, richiediamo anche l'arma secondaria ora Poi intanto qui c'è anche l'obiettivo secondario Eccolo E mi vado lì vicino perché ve lo distrugge con il colpo d'orbitale Così anche più sicuro Che vedete è pieno di nemici Bene, l'obiettivo secondario è distrutto Lo stanno a tirare nell'artilleria Però mi sacrifico per la libertà Fatto No Curati, curati Dove è il mortaio Attento una cosa, questo qua sembra un nido di insetti Che succede se io ci tiro una granata Ma che Non è, c'è praticamente nulla Però non vorrei che ci fosse qualche easter egg per il futuro Oh dai Andiamo in l'obiettivo secondario Oh c'è un'altra vivo Ah dove sono i codici Ecco l'obiettivo recuperato Facciamo progressi Ordinate No, un'altra tempesta ionica Sono terribili queste tempeste qua Aspetta perché, perché Vi metti in fuori uso tutte Ho tutta la mappa, è stata gemmi, tutto No, altri bot No, sono No, sono lì quelli cattivi Bene, sembra andato Ora Avviamo il missile Oh via via Andiamo via Dai però voglio osservare la partenza Missione completata ragazzi Dai, per la democrazia controllata Estrai sotto la guida della libertà Dai, per i fornimenti Ai miei colleghi Ora, aspetta Ma non c'è l'esplosione C'è stata Eh, vabbè Vabbè dai Vabbè abbiamo finito Facciamo andare ora Oh Oh Oh, oh Oh, oh C'è l'esplosione Cattà Sì, campioni rari Crediti Acquisito campione raro Ora però Direi di andare All'estrazione No, abbiamo posto bot Vabbè Siamo andando a distruggere Perché ormai Siamo praticamente all'estrazione Non voglio perdere tempo Ah, va bene L'avevo già distrutto loro No Aspetta Il colpo di orbitale Lo tiro Perché c'è una fila di bot Che è dietro di me Arma Arma Stai Cavolo C'è la parte più difficile L'estrazione Cavolo Tre minuti Quanti sono Dai Io restri 10 secondi No dai Corati No ragazzi Sono troppi Quanti Cristo sono Oh, eccolo Dai su Fatemi salire No No sali Sali dentro No, sali dentro Contro alla rovescia iniziato Pronti al decollo Dai Dov'è a quel lato Dai 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 Missione completata Un'altra vittoria Per il lato giusto Della storia Cavolo Ragazzi Inciato Che stanno Commemorando Il Nostro compagno Che è morto Durante la missione Vabbè Mi c'è una stella Però l'importante Sta a completarla Ora ragazzi Cavolo Abbiamo completato Una delle missioni Sul pianeta In cui Più difficile del gioco Vediamo Che è successo No, hanno distrutto una nave No Aspetta Ma queste navi qua Sono tutti giocatori Tutti Stanno combattendo Sul pianeta E quando una nave Viene distrutta Vuol dire che La missione Hanno fallito Una missione Però Che dirà Ragazzi Io direi Che dopo questa missione Il video Può concludersi qua Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate like E noi Ci vediamo Il prossimo video Ciao ragazzi